Daniele Mallamaci e Sipobas. Ciao a tutti. La repressione è il tema di stasera, quindi è bene ricordare anche quello che la repressione significa in uno dei tanti posti come quello in cui ci stiamo ritrovando. Questa era una fabbrica. Che cosa succede nei luoghi di lavoro oggi in Italia? Repressione tante cose. Nelle fabbriche, nei magazzini, la repressione prende un significato molto particolare in questi tempi di crisi perché colpisce indiscriminatamente chiunque alzi la testa. Cosa vuol dire oggi alzare la testa? C'è un abnorme aumento delle lettere disciplinari. Ormai non è più questione di comportarsi male nel senso di non garantire la produzione quale sostenere i ritmi carichi di lavoro, che già basta avanza di per sé come sfruttamento pressione. È anche soltanto questione di scegliersi di scrivere a un sindacato conflittuale. Già questo costa licenziamento in tanti casi. È comunque quasi sempre motivo di una serie di lettere di richiamo molto dure, normalmente totalmente infondate, che accumulate nell'ordine di una, due o tre portano al licenziamento. Ma spesso, come dicevo prima, è motivo di licenziamento immediato, non di una persona. In concentrazioni operai anche di cento, duecento, mille più lavoratori, come sono molti magazzini della logistica e tante fabbriche, soprattutto in una città industriale che ha ancora un peso grande, come Torino, non solo grande a livello italiano, ma a livello europeo, di licenziamento di tanti lavoratori, anche a decine. Si viene licenziato, sbattuti fuori dal luogo di lavoro, semmai dove si era impiegati da dieci, venti, trent'anni, sputando sudore, rimettendoci la salute. Si viene licenziato e si riceve una lettera di contestazione, anche nel momento in cui si supera il primo scoglio di costituire un sindacato conflittuale, per esempio mettendo un volantino. Sembra incredibile, ma in fabbriche molto grandi, pure qui a Torino, dove pure storica la presenza del sindacato, inteso evidentemente come le sigle più tradizionali e grandi, mettere un volantino sindacale in cui c'è scritto che ci sono dei problemi, problemi relativi al salario, all'orario, alla sicurezza, al rispetto. Significa come minimo ricevere una contestazione dal capo a livello orale e spesso e volentieri anche formale dall'azienda. Ci sono poi altri elementi di repressione che sono un po' più noti di questi, sebbene il mondo del lavoro mai come oggi è nell'ombra, nonostante nelle fabbriche, nei magazzini si produca in senso materiale la ricchezza di questa società, il cibo che mangiamo, i vestiti che indossiamo, la macchina con cui alcuni di noi sono venuti qui stasera. Un po' più noti perché sono non tanto mediatizzati, ed è importante ciò ma non è certamente il fine, ma perché sono più eclatanti, botte da parte delle forze dell'ordine che arrivano sempre in gran numero velocemente quando c'è un blocco, uno sciopero con picchetto che blocca la produzione e distribuzione di merci, botte con i manganelli, gas lacrimogeni e via dicendo. Qui non poche persone possono raccontare simili esperienze fuori dai luoghi di lavoro. Questo per ricordare che la repressione è totale, perché questo sistema di sfruttamento-oppressione è totale, sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. Naturalmente ciò colpisce i lavoratori e colpisce anche i rappresentanti dei lavoratori, quell'RSA, quell'RSU che lottano per, con i lavoratori che lottano come lavoratori, i sindacalisti. Essere oggi sindacalista in Italia è certamente motivo di pericolo, pericolo anche a livello di incolumità fisica. Nella nostra regione è stato ucciso un sindacalista, un lavoratore operaio, pochi mesi fa, due anni fa circa, durante uno sciopero nazionale della logistica. È stato preso da un camion. La persona che l'ha ucciso non è qui certo motivo di discutere da garantisti o giuristizialisti su cosa questa persona abbia fatto e perché. La persona che l'ha ucciso è ancora libera. Quando ci sono, come tanti altri attivisti sociali e politici, tanti attivisti sindacali che hanno misure repressive dure, per non aver fatto nulla, se non come rappresentanti sindacali portare avanti delle battaglie con rivendicazioni di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, anche facendo iniziativa sindacale di protesta, facendo sindacato conflittuale, facendo sciopero. Questo per dare un elemento ulteriore alla discussione, perché la repressione antisindacale contro la libertà dei lavoratori di organizzarsi sindacalmente sul luogo di lavoro, scegliere liberamente il proprio sindacato, fare iniziativa sindacale, l'assemblea, un presidio, una manifestazione, uno sciopero. È un elemento della repressione più generale che qui stiamo trattando e che in questa fase storica è più dura che mai. È stato detto che la repressione può agire come sta agendo perché siamo deboli. È utile anche in questo momento di partecipazione sviluppare un dibattito su noi chi siamo deboli, perché nel momento in cui la repressione colpisce, non colpisce indistintamente, colpisce evidentemente chi alza la testa in qualunque tipo di settore sociale, in qualunque tipo di ambito della nostra vita collettiva e individuale. Ecco allora che la repressione emerge come uno strumento molto potente che si impersona nel responsabile a lavoro, nel poliziotto, nel giudice e in tante altre figure dello Stato, che è uno degli elementi principali di repressione in questo sistema capitalista. Uno Stato che in maniera feticista può anche venir visto e fino a qualche anno fa era giustificato da un certo tipo di clima sociale, dovuto a un certo tipo di situazione economica, può anche venir visto come non solo cattivo ma anche buono, ma che in questa fase molto dura della crisi capitalistica mostra il suo vero volto, un volto di classe, per schiacciare chi è in basso a favore dell'interesse di chi è in alto, ricchi contro poveri, padroni contro lavoratori e più in generale proletari, quindi lavoratori, studenti, precari, disoccupati. E la repressione schiaccia perché può permetterselo essendo noi deboli in senso preventivo, perché è evidente in altri paesi, non solo fuori dall'Europa, ma ormai anche in alcune aree di alcuni paesi d'Europa, ci sono dei movimenti di protesta che non si possono più definire propriamente piccoli, minoritari. Il sistema sa, questo governo sa che le lotte sono il sale nel momento in cui la crisi fa diventare ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, agisce in maniera impreventiva, con la repressione che divide, divide ulteriormente, si è detto giustamente anche qui stasera, divide innanzitutto chi lotta perché colpisce indiscriminatamente, anche mettendo a dura prova a livello personale i militanti che queste lotte le coordinano, perché come è stato giustamente affermato prima, le lotte le fanno le persone, non certo qualcuno. Questa è una visione che fa parte del disegno di criminalizzazione delle lotte, di addossare a qualcuno in particolare una responsabilità che non è di certo sua a livello personale, ma che come tale vorrebbe essere fatta scontare. Divide le lotte, divide chi lotta da altri che lottano e allo stesso tempo divide tutte le lotte dal resto della società. Fa paura oggi lottare, citavo prima il caso dei luoghi di lavoro, perché non si finisce bene a lottare, al di là che non si vince e comunque a livello sindacale si possono contare non poche vittorie in termini parziali, evidenti, di aumenti di salario, di miglioramenti contrattuali, di rispetto come lavoratori iscritti a un sindacato e via dicendo, ma vittorie più generali non vengono riportate. Si divide chi lotta le lotte da tutto il resto della società che non lotta, perché anche se ci sono evidenti segni di un grande bisogno di lotta, c'è paura di fare la lotta. E se questa è la tendenza, nel senso di approfondimento della crisi, e vediamo a livello mondiale che cosa significa questo in termini di repressione, ci sono stati dove si viene uccisi perché si lotta quotidianamente, succede oggi in tanti paesi, dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina e anche in parte dell'America del Nord ormai, quindi in Occidente. Dobbiamo chiederci qual è la tendenza che noi possiamo vedere, intercettare, rafforzare opposta a questo stato di cose presenti. E questa tendenza è l'unificazione delle lotte, non c'è alternativa, è una necessità storica oggi più che mai. Un'unificazione delle lotte a partire da tutto quello che c'è, e c'è qualcosa, qui ce n'è una buona rappresentanza, un'unificazione delle lotte a partire dall'essere presenti, lì dove ci sono i soggetti reali che stanno soffrendo di più la crisi e che quindi sono potenzialmente mettibili in movimento dalla crisi, nei luoghi di lavoro e nei quartieri. Evidentemente ciò implica anche un non solo rispondere alla domanda a chi noi siamo, ma dove andiamo nel senso di contro chi dobbiamo batterci. Qual è questo nemico? Il nemico è il sistema, il capitalismo. Bisogna riuscire a prospettare una rottura rivoluzionaria con questo sistema perché non è più possibile un sistema buono in un sistema cattivo. Questo sistema non funziona ed è un sistema che schiacciandoci sempre di più vorrebbe preservarsi una sopravvivenza che è minata nelle sue stesse fondamenta per contraddizioni insanabili. Quindi da questo punto di vista è bene ribadirlo che il nemico essendo questo sistema è anche questo Stato con tutti i suoi organi anche di repressione, di disciplinamento, di controllo, di normazione eccetera eccetera. È anche questo Stato e noi lo sperimentiamo ogni giorno come attivisti, come lavoratori, studenti, precari, disoccupati. Quindi procediamo nel senso di un rafforzamento di questa tendenza che si oppone allo Stato di cose presenti di crisi, di unificazione delle lotte con momenti comuni di lotta e con un'azione vera per andare a trovare e organizzare la forza lì dove c'è, nei luoghi di lavoro e nei quartieri per ripartire davvero con una prospettiva di classe in grado di darci la spinta per superare questo periodo ed essere pronti nel momento in cui più persone si metteranno in movimento a causa essenzialmente della crisi, non tanto di noi, ad essere noi come organizzazioni, organizzazioni sindacali, sociali, politiche, punto di riferimento per una ripresa nel senso di una rottura con questo sistema.